Allora, da Ciamaraini per tutt'oggi, nell'arco della letteratura gli eroi sono stati gli netti, gli esteti, gli indifferenti, chi è oggi l'eroe? Esiste un eroe nella letteratura contemporanea? Agli eroi si mettono sui piedi stalli e poi i piccioni ci fanno la cacca sua, io sono contro gli eroi, penso che invece quello che manca sono i modelli, non gli eroi, i modelli si portano dentro di noi, l'eroe sta fuori, il modello sta fuori e quindi mancano modelli ed è molto importante avere...